Nuovo video dell'indovina chi, questa volta Pokémon Legendary Edition Là in fondo, come sempre ragazzi, c'è il nostro compagno di merenda e c'è il buon Madame Armi Ciao Marci, ciao Marci, ciao, ciao Marci Salve, salve, c'è il colore che cazzo, salve Salve, allora, io in questo esatto momento mi muterò perché dirò quale leggendore avrò scelto Visto che se no se vado lì a selezionarlo tu lo indovini Quindi mi muto, dico che leggendore ho scelto e iniziamo subito Lui in questo momento qua ragazzi non ci sentirà e infatti è stato un bip molto veloce perché è quello di TS E in questo esatto momento io ho scelto Tapu Koko, iniziamo subito Ora tu mi senti perché ho detto agli altri il mio bellissimo Pokémon Allora, io ti faccio una domanda Allora, ti faccio una domanda dopo quella che ti ho fatto ignorante Allora, ha delle forme di rosso nella sua skin? No, non le ha, non ha rosso nella sua skin Ok, quindi togliamo Groudon, togliamo Giratina o Giratina Giratina perché la gente nei commenti Allora, io Zekrom non lo tolgo per il semplice fatto che quegli occhiettini piccolini si sono rossi Ok Vabbè, lasciamo cose un pochino più grandi Poi, Regigigas va tolto, vediamo Deoxys Ma Deoxys è arancio però, non è rosso È arancio quello Io ho detto forma di rosso Eh no, rosso è rosso C'è, 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 c'è Hai scelto Deoxys per caso? No, non ho scelto Anche Tapu Koko è arancione È quello arancione Eh, niente, niente, niente Ok Allora, prima domanda di Bomar c'era sul colore Sai che hai anche in mente di farti una sul colore Però, questa volta non te lo faccio Ti chiedo Se il Pokémon che hai scelto è un Pokémon volante È un Pokémon volante Ok, quindi tolgo a questo punto il Groudon Che non può volare Solgaleo lo tolgo Tolgo Entei Tolgo Regigigas Palkian tipo Drago può volare Deoxys Deoxys può volare Controllando abbiamo visto che Arceus va eliminato No, va tenuto perché puoi imparare volo E invece Deoxys va eliminato Quindi tecnicamente questi qua sono tutti quanti Pokémon Che possono essere eliminati Vai, domanda tua Bomber Questo Pokémon fa parte di una delle prime tre generazioni No Non fa parte di una delle prime tre generazioni Allora mi rimane tipo un Pokémon Come un Pokémon? Ah, Mewtwo prima Rayquaza terza Lugia seconda Lugia seconda Palkia quarta Zekrom non mi ricordo se era quinta È comunque sopra Sì, sì Deoxys terza Anche Deoxys va tolto Ok Buono, buono, buono Me ne mancano solo quattro Questa è un'ottima domanda Un'ottima domanda Allora Non mi ricordo manco chi ho scelto Ok, insomma me lo ricordo Questo Pokémon qua Ha le ali Allora I think Sì, c'ha le ali Ok, ha le ali Quindi Mewtwo va eliminato Questa è una domanda ignorante Dai, ci può stare Deoxys va eliminato Arcius va eliminato Zekrom Sì, ha queste specie di piccole ali sul lato Sono ali qua Anche Palkia Anche Lugia ovviamente Rayquaza Queste cose qua Cosa facciamo? Non sono Dai, togliamolo, togliamolo Allora, mi rimangono a me Per ora Ghiratina Lugia Quattro Pokémon come me Hai vento di Zekrom Ok, quattro Pokémon Manca l'ultima domanda Vai, vai Ultima domanda Allora Allora, aspetta un attimo Ogni volta ragazzi Mi fare domande Bisogna pensarle Non è come l'indovina Chi dei youtuber Quarta, esatto Quarta gen Arcius Palkia Di quarta gen Tapu Koko Mi sembra che è di setma E Zekrom È di quinta Se non sbaglio Allora Mi tocca farti una domanda Che è diretta È della quarta generazione Devo controllare Prima di fare fail Perché non voglio fare fail Palkia Palkia Arcius Quarta Tapu Koko Settima E Zekrom Quinta Tu mi hai chiesto la quarta Sì No, non fa parte della quarta gen Ok, quindi è uno l'altro adesso Mio Dio Quindi tu hai Zekrom e Tapu Koko Giusto? Gli occhi di Zekrom Sono rossi Ma non vengono contati In questo caso Ti chiedo Se ha del colore rosso Predominante Come Ghiratina E Ivelta Nella sua Nella sua skin È brutto da dire Però nella sua forma Non ha Del rosso Ok, quindi eliminiamo Direttamente Ghiratina E Ivelta La mia rimangono soltanto Zekrom e Lugia A questo punto È palese È palese Chi abbia scelto Cioè Tu hai scelto Lugia Tu hai scelto Lugia E tu hai scelto Tapu Koko Il mio è esatto Cioè Ho scelto io Tapu Koko Tu cosa hai scelto? Ho scelto Lungia Ragazzi Il mio secondo pokemon Che scelgo Questa volta è palese Vediamo lui cosa sceglierà Ho già comunicato Cosa ho scelto Quindi vediamo anche Chi è che ha iniziato Prima con le domande È iniziato io Vero? Ho iniziato io Allora Parto io con le domande Aspetta un attimo Però fammi un attimino Scegliere anche a me Perché io non ho ancora scelto Ok dai Ho scelto Scegliamo Mimoviamo Cioè allora La mia prima domanda È Se è un pokemon Legendario Di quarta generazione È un pokemon Legendario Di quarta generazione Cosa devo fare? Quindi? Devi lasciare solo Pykeh e Regigigas No non è vero Ok Pykeh e Regigigas Zekrom Arceus E basta No Zekrom non è di quarta Scusa non Zekrom Scusami Allora Devo lasciare soltanto Pykeh e Regigigas Giratina E Arceus Ah così proprio Papam Me lo vuoi dire Soltanto quattro Oh che bello Allora Che miseria Che fortuna Graudon Ovviamente Marciado Sei bellissimo Ma Marci non ti ha scelto Hai velto albatolto Io so chi hai scelto Allora aspetta che devo continuare a eliminare però Tu sai chi ho scelto io? Sì Me lo vuoi dire così di cattiveria? Hai scelto Solgaleo? Non ho scelto Solgaleo Corca in serio Ma sai che Ci ho pensato Onestamente Ho detto Cavolo c'è questo galleone Che potrei sceglierlo Ma tac Non l'ho scelto Mi spiace Vabbè è stato un bel tentativo Io c'ho Ah no cacchio Perché ho tolto Zekrom? Sono stupido Che poi sbaglio Ok No Zekrom è giusto toglierlo Ah no è vero È vero È vero È vero È vero È vero Uno due tre Sì era un quattro da lasciare Va bene Allora Eh roga qua Qua sgraviamo eh Perché qua potrei Il problema di questi qua è che sono tutti simili Cioè è difficile fare una domanda su questi quattro qua Allora te lo sparo così Te lo sparo Vai Hai scelto Ghiratina? Non ho scelto Ghiratina L'ho voluto sparare un nome perché comunque quando tu me l'hai chiesto mi sembrava giusto comunque chiederti anche a te un nome Dai così me ne rimangono soltanto tre Hai scelto un Pokémon tra la quarta, quinta e sesta generazione? La quarta, quinta e sesta gen 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 Perché Solgaleo non vale tanto Sì Ok Senti come sei liberato ragazzi Dopo che gli ho detto sì Vediamo quanti ne sto togliendo però Tapu Koko Tapu Koko sì perché è settima non è quarta, quinta, sesta Sì sì no no tranquillo tranquillo Non lo so infatti ti toglierà anche Marshadow se per questo eh È sesta, è settima No è settima Marshadow Ma ci rimangono gli stessi Pokémon che è che A me rimane Arcius, Regigigas e Parchia Ma scusa ma hai scelto uno di quattro anche te probabilmente Io non lo so dovresti comunque Allora Allora a questo punto qua la mia ultima domanda è Se hai scelto Questa qua è la mia terza ultima domanda eh te lo dico Sì 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 Hai scelto Arceus? Non ho scelto Arceus Nooo cavolo mi sono giocato tutte le domande così Qualsiasi domanda Allora se ti faccio una domanda Ha del rosso da skin posso togliere Ghiratina, Regigigas e Ivelta ma me ne mancano tre Devo fare una domanda più Diretta È di quarta gen? È di quarta gen? Nooo che sbatta È di quarta gen? Potevi farla anche te sta domanda solo che non l'hai fatta Vai spara il Pokémon Allora tu in questo momento qui hai scelto Palchia E tu hai scelto Arceus Chi hai indovinato delle due? Tu cosa hai scelto? Dimmi prima te Io avevo scelto Palchia Anche avevo scelto Palchia Sì 2 a 1 Mamma mia Questa ultima manche ragazzi scelgo Marsiado Vediamo lui cosa sceglierà Vai ho scelto bro Io ho già comunicato la mia scelta Allora ho scelto anche io Ok Allora Il tuo Pokémon fa parte delle prime due gen? No Che bello quanti ne tolgo E beh togli Lugia Mewtwo Entei E basta Quindi togli tre Non è che No togli cinque Perché è Grado Nerequaza? Ma no c'è ragione Io ho convinto di fare Volevo fare terzo Volevo dirti seconda e terzo Ho sbagliato Ho sbagliato Ok ottimo Allora io in questo momento ti faccio un'altra domanda Il Pokémon che hai scelto è di quinta gen? No Cavolo Che brutta domanda che hai fatto Eh ma sai cosa? Speravo Che con questa domanda Pam Te li facessi tutti Spera Adesso te la butto anch'io questa domanda È di quinta gen? No Dai sono Zekrom Vado avanti di generazione adesso io Andiamo avanti di generazione in questo livello? Vai Vai Allora io ti chiedo Se Però una generazione a volta Non vale fare il range Ok va bene Io ti chiedo se è di quarta gen Non è di quarta gen Allora eliminiamo anche Regigigas Paikia Io ho l'ultima domanda quindi Arceus e Ghiratina Sì hai l'ultima domanda Vediamo cosa ci chiedevo Te la devo buttare lì È di terza gen No Non è di terza gen Volevo dirti di settima Poi l'ho detto Eh sarà di terza Ok ci sta come domanda Se non ci può stare Eh io a sto punto Ti chiedo Se è di settima la tua Non è di settima Cavolo Allora tolgo solo Tapu Koko E Marsciado Vuoi che ci lasciamo una domanda in più? No 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 La rischiamo È da rischiare l'ultima Secondo me Vai Hai scelto Sol Galeo E secondo me tu hai scelto a questo punto Rayquaza Io ti dico sempre Sol Galeo Tu chi hai scelto? Io in realtà avevo scelto Marsciado Io ho scelto Graudon No Volevo chiedertelo se fosse di terza Prima però poi ho pensato No chiediammi la settima Io uguale con la settima Peccato Vabbè ho vinto io 2 a 1 Quindi ragazzi lasciate un like e un commento Iscrivetevi al canale se ancora ti hai fatto Passate il canale e bombarci Qui in alzo le schede con gli altri video qua davanti Con le sensazioni Ciao Ciao